Si avvisano di nuovo i tifosi ospiti Già cominciata la festa dei tifosi della Lazio Felipe Anderson Attenzione al tocco buono che c'è per Zaccagni che sterza Vuole Ciro Immobile Ancora fuori per Luis Alberto Il gioiello del mago al novantaduesimo Sui titoli di coda della partita A chiudere la questione del Castellani Luis Alberto Sesto gol in campionato Il numero 42 in Serie A Contropiede micidiale della Lazio Zaccagni Immobile E poi destro E prima intenzione All'angolino che Non lascia scampo a Uicani All'angolino che non è più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.